Ciao ragazzi, ciao ragazze Allora, vi faccio vedere il catalogo di settembre Questo è tutto il catalogo di settembre della Crissy Alain Allora, voglio fare ragazzi un video non molto lungo Allora, questa è la copertina, bellissima Io già l'avevo fatto Involontariamente, voglio svenire, ho cancellato il video Allora, questi sono i gioiellini Allora, questa qua è biciutteria Allora, il catalogo ragazze è molto carino Come vi ho fatto vedere dallo spacchettamento Vi avevo fatto vedere gli orecchini A volte vedete i gioiellini come sembrano più grandi Però ora che cosa hanno fatto? Hanno messo i codici Quindi basta che uno si scarica un'app dove si vedono questi codici E automaticamente l'app ti porta nei video di Youtube E quindi tu vedi la ragazza proprio come indossa il gioiello Quindi tu vedi proprio la grandezza del gioiellino Quindi questa cosa ragazze è troppo bella Perché tu vedi proprio l'orecchino indossato Vai a vedere con questa novità che hanno messo sui cataloghi Quindi questa qua è biciutteria Allora, vediamo se posso girarlo così Ecco ragazze, spero che si vede Poi magari una prossima volta mi metto sulla scrivania Però ora stavo meglio da questo lato Poi ci sono questi qua Questi qua Vi faccio anche lo sfoglio in ASMR del catalogo Già sta programmato ragazze Perché lo so che vi piace sentire la carta Poi questi qua Comunque metto il mio shop online Se volete vedere questi prodotti E poi metto anche la pagina Facebook Se qualcuna è interessata a sapere come funziona Non ci sono obblighi ragazze Se non lo sapete non mi iscrivevo Poi mi piace tantissimo Belli Allora questo qui Vediamo un po' Queste sono sempre biciutteria Fatemi vedere bene Sì Questo è sempre biciutteria Ah, sono placati in argento Non è proprio biciutteria Placcato in argento E placato in oro Sono placati Quindi questi Belli Questi qua Questo Questo Mi ero già innamorata io Perché io adoro le croci Ragazze Questa me l'ho innamorata io Sono andata a vedere la ragazza Come la indossava Tiene sull'orecchio qua Ed è argento 9,25 Questo qui Ci sta uno di 22 Ah, prezzo per unità Quindi costa uno E quindi questo qui Sono troppo belli La stessa cosa sta anche in dorato Poi Placcato Argento 9,25 Placcato oro Questi qua Questi altri Belle queste fotografie Sono belle E molto Sono degli Molto minimal Questo qui Questo qui Prezzo per unità Questo qua Questi altri Belle queste ragazze La maggior parte del catalogo Ragazze È quasi tutta Tutta gioielleria Perché diciamo che poi Principalmente Ci sono i gioielli Però comunque Ci sono anche le altre cose Questi Scusate ragazzi Poi Questi Questi Ma come sono belle Queste foto Mamma mia Vabbè Questo è l'oro Ragazze Poi c'è l'oro Andiamo veloci Questa Guardate quanto è bella Poi ci sono gli orologi All'accessorio Ci sono gli orologi Le borse Le scarpe In questo catalogo Però borse Non ne ho viste Per esempio Questo è bello Sono molto belli Gli orologi Questo è un portacellulare Le cinte Poi Le borse Quest'altra borsa Le scarpe Carini Gli accessori Sono troppo belli Prima c'erano anche i vestiti Della Grisial Chissà se li mettono Bellissimo L'abbigliamento Speriamo che lo mettono Fanno questo pensiero Di mettere l'abbigliamento E poi ragazzi Se sei una persona Allora Se fai Acquisti Superiore a 25 euro Da questo catalogo La borsetta Invece di 36,95 L'hai a 19,95 Troppo Troppo carina A me non piace il rosso Perché se no Ci piace quel pensierino Però non mi piace il rosso A me È troppo forte Come colore È troppo carina Che peccato Potrebbe essere un altro colore Poi ci sono i profumi Ragazzi Il 20% Abbiamo questi qui Vedete Come In offerta A 9,95 I profumi Della Grisial Line Sono molto buoni Sono con le imitazioni Di profumi Ci sono i group E poi Vedete questi qua I prezzi I prezzi sono molto buoni Di profumi Infatti devo prendere I campioncini Perché mi hanno chiesto Che vogliono sentire Di profumi Poi c'è la cosmetica La cosmetica L'adoro Perché ho visto Gli inci E mi piace tantissimo Voi lo sapete Che più che trucco E tutte le altre cose Io devo trovare Una buona cosmetica Quindi Poi piano piano Parleremo Della cosmetica Poi ci sono Tutte queste cose Qua in offerta Questa è la skin care Questa è un'altra linea Effetto Ci sono i sieri Effetto Lifting Poi Questa è una maschera Adoro Adoro Voi lo sapete Che è la cosmetica Questa qui è una crema Che io già l'avevo provata La bava di lumaca Mi piace un sacco Questa qui è una crema Per il corpo Che ha l'olio di mandorle Dolci Un profumo di giglio Il giglio c'è dentro Poi Qua ci sono ancora Dei solari Poi ci sta Questo spazzolino Elettrico In silicone E questo dentifricio Antimacchia Poi ci sono I deodoranti Vedete quanto costano 2,95 Poi ci sta Questo che ho preso Pure io Vi ho fatto vedere Nello spacchettamento Ah no No ragazzi Io avevo preso Quello lì Questo è al bambù Io avevo preso Quella l'aloe vera Quindi queste sono Altre formulazioni Questi sono Frutti di bosco E questo è al bambù Poi ci sono Le fiale per i capelli L'intimo E il siero Per i capelli All'argan Interessante Voi lo sapete Che dove stanno i capelli Poi Questo spray Alla pesca Per le mani E poi un gel Per le mani Poi Profumatori per ambiente Bellissimo Questo me lo devo prendere Vediamo che ci sta Bambù Altea di bambù Limone Coralsea Non c'è capito Secondo me Questo qui Al limone Mi ispira molto Il profumo di limone Poi Abbiamo Gli smaltini Tutti gli smalti Le palettine Queste palettine Sopracciglia Le matite Questa è una specie Di mascara Per ciglie In 3D Le matite A 3,95 Stanno in offerta Il mascara Questo qui Push up 7,95 Lo teniamo in offerta Bello 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 Mi piace tutto E poi Ma che si è incollato Perché stavo facendo Delle creazioni Questi sono i rossetti Ragazzi Labbra finitura Opaca 7,95 Questi sono troppo belli Rossetto Rouge Exquisite 9,95 Questi sono Matita labbra Per graffiti 7,95 Questi sono una specie Di balsamo labbra 4,95 Poi abbiamo Quest'altro Correttore Rossetto Ragazzi Questo Devo vedere Com'è Perché ci sta Dal lato Il rossetto E sotto Il correttore 9,95 In offerta Tiene due prodotti In uno E quindi Voglio vedere Come sono Questi qua E poi Ragazzi Abbiamo La spugnetta Per il trucco 3,95 Il pennello 12,95 Quest'altro 12,95 Due spugne Per la cipria 1,40 Il 20% Discuto Il 40% Abbiamo Come si chiamano Fondotinta Compatto 8,95 La BB cream Opacizzante 6,96 E un tono Scuro 5,95 Poi abbiamo Il blush 13,95 Fatto a perle Belli questi Bellissimi E poi La palettina Contouring 7,95 Sempre in offerta E poi Per finire Ragazzi Il fissatore Per il trucco In offerta 4,25 Adoro La cosmetica Mamma mia Cosmetica Trucco Smalto Tutte queste cose qua Sono quelle Che le cose Che mi piacciono di più E niente Ragazzi Facciamo questo video Breve Vi rimango Vi lascio Nell'info box Ragazzi La mia pagina Facebook Cristian Line E il mio shop Online Se vi volete Farei un giro Sullo shop Se volete Informazioni Di come funziona Scrivetemi Sulla pagina Facebook Che vi faccio sapere Vi mando un bacio Al prossimo Video Ciao